Partirà entro la metà di ottobre la campagna vaccinale anti-influenzale. Le dosi saranno oltre 30.000 in più rispetto allo scorso anno. Come ci spiega il dottor Liverani, direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica e della Prevenzione e Malattie Infettive, le dosi arriveranno da fine settembre in tre tranche e in diversi punti dell'area Vasta 1. Nei servizi farmaceutici di Fano e Pesaro, negli ospedali di Urbino e Pergola e nell'ospedale di comunità di Fossombrone. Per i vaccini potrebbero essere predisposti anche i drive point già attivi da mesi per supportare i medici di base in previsione di un aumento delle richieste. Noi dobbiamo garantire con un'ampia apertura degli ambulatori vaccinali la possibilità di vaccinare le persone che non riescono a farlo con i medici in medicina generale perché magari devono rispettare le norme sul distanziamento sociale e quindi questo può essere un problema di ambulatori e dei medici di medicina generale. Qualora fosse necessario siamo in grado di attivare in tempi brevi dei interventi di vaccinazione di massa tramite, utilizzeremo la modalità drive perché ha avuto un ottimo successo con i tamponi e riteniamo che possa essere tranquillamente applicata anche per somministrare i vaccini in un'ottica di un intervento vaccinale di massa. Sarà efficace anche contro il Covid? Allora qui bisogna fare un po' di chiarezza. La vaccinazione anti-influenzale è indicata per la prevenzione dell'influenza laddove le epidemie influenzali stagionali ancora sono un grosso problema in sanità pubblica perché sono associate a una elevata mortalità e morbosità. Alcuni studi non ancora confermati i quali sembrerebbero indicare che le vaccinazioni in generale soprattutto fatte da poco, inclusa la vaccinazione influenzale, riducono sia il rischio di infettarsi e sia il rischio di sviluppare forme severe. Sono dei dati interessanti ma ancora hanno bisogno di ampie conferme. In questa stagione, ha proseguito il dottor Liverani, la vaccinazione è fortemente consigliata perché ci aspettiamo ed anzi siamo sicuri che circoleranno entrambi i virus. Quindi avere un'ampia copertura vaccinale contro l'influenza, ha precisato, aiuterà i clinici nella diagnosi differenziale, cioè sapranno distinguere le due infezioni e di conseguenza saranno più sicuri nel richiedere l'eventuale tampone nasofaringeo per il Covid-19. Ma aiuta anche la popolazione perché immaginate un paziente fragile che si è appena ripreso da una forma influenzale ed è provato e viene nuovamente intaccato da un'altra forma virale come può essere quella del SARS-CoV-2. Invece per il vaccino contro il coronavirus bisognerà attendere ancora diversi mesi? Secondo le dichiarazioni dell'OMS non dovrebbe essere disponibile prima del 2022. A quale platea è consigliato il vaccino antinfluenzale e in quali casi è gratuito? Quest'anno la circolare ministeriale ha ampliato un po' le fasce in cui la vaccinazione è raccomandata e gratuita, oltre alle classiche fasce delle precedenti stagioni, cioè gli ultra 65 anni, soggetti di tutta l'età con condizioni patologiche di rischio, gli operatori sanitari e altri soggetti addetti ai servizi di pubblico interesse. Quest'anno la vaccinazione è estesa e consigliata e gratuita anche per i bambini da 6 mesi a 6 anni. per le donne in gravidanza, ma in tutto il periodo di gravidanza, non solo nel secondo e terzo trimestre, come veniva sottolineato nelle precedenti circolari, e poi anche nei soggetti adulti dai 60 ai 64 anni.